intenso, introspettivo, emozionale e viscerale. Questi gli aggettivi che meglio descrivono lo spettacolo teatrale Mi amerò lo stesso di Paola Turci, andato in scena al Teatro Kennedy di Fasano per il terzo appuntamento della stagione di prosa organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Uno spettacolo in cui la Turci si racconta sin da bambina sino ai successi come cantante. La cantautrice romana ha intervallato monologhi a brani cantati con la sua inconfondibile voce. Come definirebbe questo spettacolo? Può essere più che altro il manifesto di chi lotta con tutte le sue forze per raggiungere quello che vuole. E non è il successo, non è il potere, non sono i soldi, ma è l'amore. L'amore per quello in cui crede, per quello che sente. C'è una battuta in questo spettacolo che dice che l'amore è quello vero aveva la forma di una chitarra e mi sono chiesta se un amore così forte avrei potuto provarlo per un essere umano, anche per un essere umano. Questo insomma un po' la spiega. Vuol tracciare un bilancio di questa prima parte del tour teatrale che l'ha vista protagonista di Ben Quattro Tappe in Puglia? Beh, siamo all'inizio, anche se queste quattro sere sono concentrate, sono una di seguito all'altra, tra Bari, diciamo, tra Foggia e Brindisi e Lecce. Però ecco, sono all'inizio, spero di tornare in Puglia e di ripetere il percorso. Però è stato molto bello, sono stati giorni, serate divertenti, commoventi, mi fa piacere vedere la gente che piange, mi fa molto piacere e mi fa piacere anche tantissimo quando ride, quando sorride, quando ride, comunque quando è attenta, quando è coinvolta, ecco, quando sento che prova la stessa cosa che provo io, questo mi fa molto piacere.